Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 2 km di coda per veicoli a Navaria tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze, in carreggiato opposta rallentamenti per traffico tra Calenzano e BV1 Variante. In FIPD per interventi di miglioramento della sicurezza, 1 km di coda tra Montelupo e Ginestra, verso Firenze rallentamenti in carreggiato opposta tra La Strassigna e Montelupo. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Ultima pagina per il traffico ferroviario, segnaliamo ritardi e cancellazioni per guasto temporaneo agli impianti di circolazione all'altezza della stazione T10 Pescagli, tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico navale per maltempo, quest'oggi è cancellato il traghetto delle 12.20 Piombino-Cavo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!